Pochissimi gestori di alto profilo hanno un fiuto per rifare i soldi come il CEO di Berkshire Hathaway, definito l'oracolo di Yamaha Warren Buffett. Nel 57 anni trascorsi da quando ha preso le redini di Berkshire ha portato le azioni di classe A della sua azienda a un rendimento medio anno sbalorditivo del 20.1% annualizzato. La volontà di Buffett di mantenere i suoi investimenti per molti anni se non decenni e il suo amore per i dividendi sono due ragioni per cui è stato un investitore di successo, ma un ingrediente che aveva del successo di Buffett che viene spesso trascurato è la concentrazione del suo portafoglio. Ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmi. Io come sempre sono Pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale puoi trovare il link qui sotto in descrizione nel caso tu lo voglia acquistare dove vado a raccontare la mia personalissima esperienza da debitato seriale ad un investitore e risparmiatore incallito. L'oracolo di Yamaha crede che la diversificazione sia la protezione contro l'ignoranza. In altre parole l'acquisto di un camion pieno di azioni diverse come un etf ad esempio ha senso solo se non sai cosa stai facendo. Sebbene il portafoglio di investimenti da 313 miliardi di dollari di Burkish Hathaway abbia partecipazioni di quasi una cinquantina sia scarsa di posizioni oltre 241 miliardi di dollari di asset investiti che sono più di o meno il 75 76 per cento del valore totale del portafoglio sono costituiti da solo 6 titoli. I titoli in questione sono quelli più famosi Apple, Bank of America, Chevron, The Coca Cola Company, American Express ed infine Occidental Petroleum. Andiamo a vedere velocemente quali sono le prime tre nel portafoglio di Buffett e se rimani fino alla fine del video ti dico invece quale di queste sei commettere come le prime tre scelte se dovessi selezionarle per un mio portafoglio personale. Chevron partiamo dal gradino più basso del podio, una petrolifera in particolare Chevron posseduta in termini di 26,2 miliardi di dollari di asset investiti. È un'aggiunta relativamente più recente al portafoglio che portano avere circa l'8,4 per cento del portafoglio totale di Warren Buffett e di Berkshire Hathaway ad essere investita in Chevron. Commettere in grande solo energia non è qualcosa per cui Warren Buffett è famoso tuttavia alcuni fattori suggeriscono che i prezzi delle materie prime energetiche potrebbero rimanere elevati negli anni a venire. La invasione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina insieme a ogni significativa riduzione degli investimenti di capitale da parte delle major mondiali nell'energia normale durante la pandemia di Covid-19 renderanno comunque difficile aumentare rapidamente la fornitura globale di petrolio greggio e gas naturale. Un altro punto di forza di Chevron nella sua struttura operativa è infatti una struttura integrata, significa cioè che Chevron controlla gli asset ammonter per cui le perforazioni e le esplorazioni, gli asset abistim per cui tutte le condutture di trasmissione, anche il downstream e impianti chimici e raffinerie. Mentre la perforazione porta a casa il margine operativo più succoso, gli asset midstream dell'azienda possono generare flussi di cassa altamente prevedibili. Nel frattempo le attività a valle beneficiano di costi di input inferiori quando il greggio scende. In breve le attività a valle fungono da copertura contro la caduta dei prezzi. Inoltre notizia che a me piace moltissimo, Chevron è piuttosto generosa con il suo programma di restituzione del capitale e dividendi. Chevron infatti ha aumentato la sua distribuzione annuale per 35 anni consecutivi e la società potrebbe riacquistare fino a 15 miliardi di azioni, di dollari ovviamente. Bank of America ha al secondo posto un titolo bancario, sebbene non al primo posto in generale le azioni bancarie rimarranno per sempre il settore preferito, quello diciamo da pulicino di Warren Buffett. I 32,7 miliardi di dollari investiti nel gigante Bank of America ne sono la prova e il giovanotto ne possiede circa il 10,5% del totale del suo portafoglio, di quello Berkshire Hathaway. Per Buffett il settore bancario è affascinante anche per la propria ciclicità. Anche se le recessioni sono una parte inevitabile di un ciclo economico, di solito sono di breve durata. In confronto i periodi di espansione economica durano quasi sempre di più. Le banche per cui beneficiano di periodi di espansione sproporzionalmente lunghi, aumentando i loro prestiti e i loro depositi. È un semplice gioco di numeri che favorisce gli investitori pazienti come Buffett, perlomeno in America. A un livello più specifico dell'azienda Bank of America è la più sensibile agli interessi delle grandi banche. Quando la curva dei rendimenti dei tassi di interesse si sposta, nessuna banca vede aumentare o diminuire il proprio margine di interesse più di Bank of America. Con l'aumento aggressivo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve per domare l'inflazione storicamente elevata, Bank of America può aspettarsi miliardi di dollari di reddito netto da interesse aggiuntivo sui prestiti a tasso variabile in sospeso. Anche qui, e ovviamente non poteva essere, altrimenti il dividendo è importante durante i mercati rialzisti, non è raro che la società restituisca agli azionisti oltre 20 miliardi all'anno tramite dividendi ed acquisti delle proprie azioni. Apple a primo posto, come molti di voi sanno, il gigante tecnologico Apple. L'amore di Warren Buffett per le poche posizioni predominanti è facilmente visibile con la sua posizione nella sua azienda del cuore Apple. Il titolo dell'azienda di copertino costituisce uno sbaruditivo 40,5% del totale per un aumentare di circa 126,6 miliardi di dollari degli asset investiti in ed è stato etichettato dall'oracolo di Obama come uno dei quattro giganti di Berkshire Hathaway. C'è una lunga lista di ragioni per cui Buffett e il suo team di investimento hanno convinzioni così forti nei confronti di Apple. Ciò include avere un marchio ben noto, una base di clienti eccezionalmente fedele e una gamma di prodotti e servizi guidata dall'innovazione. Ad esempio l'introduzione di iPhone compatibili con 5G ha aiutato Apple a mantenere circa la metà negli Stati Uniti come quota di mercato degli smartphone. L'evoluzione di Apple l'ha anche vista diventare una forza predominante dei servizi ad abbonamento, quelli a pagamento. Questa trasformazione in corso verso un modello operativo basato su piattaforma dovrebbe accelerare il suo tasso di crescita organica, aumentare il suo margine operativo e ridurre al minimo le fruttazioni che sono associate ai ricavi di quelle che sono i cicli di sostituzione dei prodotti fisici, cosiddetti iPhone, iPad e i computer e così via, i prodotti fisici in genere. Come nota finale il programma di ritorno della distribuzione di Apple non è uguale, distribuisce quasi 14,8 miliardi di dividendi all'anno, poco non uno yield che è infinitesimale e oltretutto ha restituito un ottimo capital gain. Detto ciò le prime sei posizioni sono quelle elencate dall'inizio, ma se dovessi sceglierne io tre da mettere in queste tre prime posizioni quale sceglierei? Bene io non sono Warren Buffett e questo è palese per cui ogni mia scelta non è sicuramente paragonabile a quella del giovanotto di Yamaha, ma per quanto mi riguarda terrei le prime due posizioni per cui Apple al primo posto e Bank of America al secondo, mentre non andrei a tenere Chevron al terzo posto, ma la sostituirei con The Coca Cola Company che vedo al pari di Apple come un marchio internazionale indivisibili dal suo colore, sapore e appealing sulle persone, ma ovviamente sono solo delle mie personalissime percezioni. Bene fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi delle posizioni del portafoglio di Buffett di queste prime sei e quali fra queste sei sono quelle che tu metteresti ai primi tre posti nel tuo portafoglio personale. Se questo video poi è stato di tuo gradimento e ti chiedo veramente di supportarmi con poco lasciando un bel pollice su, fammi crescere sulla piattaforma, a te costa un battito di ciglia ma per me significa il mondo, se poi di nuovo sul canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto pubblicato successivamente. Bene anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un prossimo video, ciao a presto!